Siamo pronti ad accogliere alcuni dei migranti salvati dalla Open Arms. La comunità lodigiana del Gabbiano, danni attiva nel sostegno alle fragilità nelle sedi di Colico, Calozzo Corte e Tirano, lancia la propria disponibilità a farsi carico di alcuni dei naufraghi tratti in salvo negli scorsi giorni dalla nave della ONG spagnola alla quale è impedito lo sbarco in Europa. Si tratta di oltre 150 naufraghi, di cui 23 minori e due donne in stato di gravidanza, si legge nel comunicato. Sentendoci parte della realtà della società civile, ci facciamo promotori attivi dell'accoglienza di persone provate e innocenti, così come già dichiarato dalla Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia e dalla Tavola Valdese. Siamo convinti, prosegue la nota, della prevenenza e della tutela del diritto alla sopravvivenza di donne e uomini, minori e adulti di fronte a qualsiasi strumentalizzazione di fenomeni che dovrebbero essere affrontati con lungimiranza e programmazione e che in casi come questi, nel momento in cui scriviamo più di 500 persone si trovano nel mar Mediterraneo, devono rispondere a un unico grande valore, la dignità dell'essere umano. Negli scorsi giorni, i migranti ospitati sulla Open Arms sono stati visitati dall'attore americano Richard Gere, da sempre impegnato sul fronte della tutela dei diritti umani. A suo fianco il caloziese Riccardo Gatti, capitano di una delle navi della ONG spagnola. Una buona notizia, arrivano i viveri sul nostro rimorchiatore, ha annunciato Gatti. Abbiamo un compagno speciale, un amico e soprattutto un attivista per i diritti umani. Richard Gere ci ha raggiunti a Lampedusa per dare il suo sostegno al nostro equipaggio e a tutte le persone a bordo.